Nato questo accordo con Volvo e nella fattispecie con il concessionario di zona che è Pavoni Auto che si è prodigato affinché si potesse arrivare a questo accordo con Volvo Italia e abbiamo siglato questo accordo che ci unisce i due marchi per tre anni. La cosa che mi ha fatto molto piacere al di là della volontà dei concessionari che è stata forte ma anche il fatto che Volvo Italia non ha fatto distinzione con noi voi sapete che sono presenti nel calcio ad alto livello con squadre ben più importanti del Pescara con noi non hanno neanche fatto la distinzione di categoria per cui non è interessata assolutamente la categoria ma avevano voglia di legare il loro marchio alla squadra del Pescara e questo mi ha fatto enormemente piacere. Siamo contentissimi di questo rapporto a cui tenevamo tanto abbiamo cercato tanto di avere questo incontro, siamo riusciti crediamo molto che sia una bella realtà per Pescara la squadra di calcio e noi farebbe piacere anche rappresentare degnamente anche noi la nostra città con il marchio Volvo che è un bellissimo marchio che rappresentiamo già da qualche anno. Fa piacere che il Pescara sia in serie A noi comunque abbiamo siglato un accordo anche pluriannale speriamo che sia sempre in serie A ma abbiamo detto chiaramente che a noi interessava comunque affiancarci al Pescara calcio a prescindere.